A voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliaci, come sempre un saluto da Giuseppe De Vittis. Il tempo non guarisce, ancora bassa pressione nel Mediterraneo e quindi ancora attenzione maltempo, soprattutto al centro e al sud. Comunque anche sulle regioni di nord-est avremo delle nuvolosità, ma con poche fioccate. Più che altro avremo dei rovesci di neve sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna. Occasionalmente qualche fiocco in mattinata anche sulle pianure centro-orientali. Ma i fenomeni, come detto, maggiori, quindi le piogge più convinte si avranno al centro e al sud in una seconda fase, anche con rovesci di piogge temporali su Calabria, Basilicata, poi a seguire anche sulla Puglia. Rovesci di piogge temporali a fasi alterne sulla Sicilia e sulla Sardegna. Attenzione ancora alle nevicate, nevicate anche abbondanti sull'Italia centrale, sino a quote molto basse, anche se la quota neve tenderà lievemente ad aumentare oltre i 3-500 metri. Però, attenzione, gli accumuli saranno ancora notevoli. Sull'Italia meridionale, nevicate si avranno oltre i 7-900 metri. Io per ora ho concluso, buon proseguimento di giornata.